guardate la mia bella bicicletta a test anzi ve la faccio vedere tutta la sua bellezza con scritto anche test bike si ringrazia il negozio Cicchi Sperafico nella persona di Maurizio Sperafico molto gentile la filmiamo adesso perché poi sai com'è magari non è più lo stesso che il color dietro sono l'enduro da 29 ragazzi che bici wow Bop! Bop! Let's show number 3 WHAAAT?! WHAAAT?! Hehehehe E' un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ci sono i segni la 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 ragazzi che stabilità visto veloce tutto sotto controllo grazie a tutti